Abbiamo chiuso per primi in Italia le scuole. Mi correggo, abbiamo chiuso per primi in Italia le scuole. Non abbiamo chiuso le scuole, abbiamo bloccato le scuole. Ma l'organizzazione scolastica la fanno i dirigenti scolastici, non la regione. Allora, a fronte di dati drammatici del contagio nel mondo scolastico che avevamo, abbiamo preso quella decisione. Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche madonna. Io non ho incontrato in queste settimane neanche una madonna che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare il contagio a scuola comune. E tuttavia mi capita di vedere l'intervista ad una bambina con una bella bambina di tendenza. Gli occhi ridenti e fuggitivi di tendenza. La domanda del giornalista, lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? La risposta, la mia bambina è venuta piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a sparare. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a sparare. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a sparare. Perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli cassi. Cioè questa povera figlia di puta è un OGM cresciuta dalla puta con plutonio. L'unica al mondo. È stata trovata da questo intervistatore. Ma mica ha chiesto alla mamma, senti con quattro contagi nel mondo della scuola, tu che pensi che si debba fare? Devi portare la bambina a scuola. Iscriviti al nostro canale.